Basta mandarmi foto di Minions su Facebook, ok? Basta! Non li voglio sentire, non li voglio vedere, non voglio sentire voi che li esaltate Perché cosa c'è di male con i Minions? Sono così carini! State zitti! Sì, vorrei parlare di qualcos'altro, ma se mi ricordate di quegli esseri gialli ogni fottuto giorno che vivo Porterò avanti la mia causa, e ancora, e ancora Basta mandarmi messaggi sui Minions che fanno cose Prima di tutto, sono schiavi! Sono schiavi! Piccoli, minuscoli, schiavi gialli! Ho trovato... Ho trovato una teoria, ok? Gialli Quale razza è gialla? E in quale parte del mondo è tutto fatto dai bambini? Cina! Cina! I Minions sono... Bambini cinesi! Vedete il mio cane? Lo sto destrando e odierai i Minions Ora ne mastica uno Ora Lo vedete? Odio i Minions proprio come me!